San Basile, piccolo comune Arbresce della provincia di Cosenza, è comune covid free. Nessuna positività, nessuna quarantena, i ragazzi sono rientrati a scuola. Più che soddisfatto il sindaco Vincenzo Tamburi, che comunque raccomanda in ogni caso a tutta la cittadinanza di continuare a seguire in modo scrupoloso le comuni prassi per limitare il contagio del covid-19. Su San Basile per fortuna in questa fase l'emergenza covid si sta sentendo poco. I casi sono a zero, nessuna positività e nessuna persona in quarantena, il che significa che la cittadinanza, la comunità ha risposto bene a tutte le indicazioni che abbiamo dato e anche a tutte le precauzioni che abbiamo sempre cercato di dare ai cittadini proprio per evitare l'emergere di questi contagi. Inoltre la buona notizia anche in questi giorni è che abbiamo riaperto la scuola, i ragazzi sono finalmente tornati tra i banchi, hanno ripreparato la mattina il proprio zaino e l'abbiamo fatto in piena sicurezza. Ovvero qualche giorno prima, il sabato, abbiamo deciso di far fare i tamponi gratuiti a tutto il corpo docente, a tutto il personale ATA, a tutti i ragazzi delle scuole ed anche alle loro famiglie, ai fratelli, ai genitori e anche ai nonni, facendo uno screening di 100 tamponi che in qualche modo tutti i negativi ci hanno rassicurato anche su questo rinizio di scuola. Quindi su questa strada bisogna continuare mantenendo la distanza anche quando si esce, mantenendo la mascherina quando si è fuori e quindi cercare di preservare tutte le comunità perché se ci in qualche modo tuteliamo noi riusciamo a tutelare la salute di tutti.